E' bella a tutti ragazzi e benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video! No ragazzi, non sbatterò nulla sulla schivania, ormai sono una persona matura, ok? Ma col cazzo! Andiamo a sbattere tutto! Allora ragazzi, oggi ho deciso di portarvi qui con me sul mio canale nuovamente un ospite speciale che già sicuramente conoscete. Perché ho voluto invitare quest'ospite? Ho deciso di fare una challenge, una sfida molto molto complessa che Giorgio ancora non sa e quindi glielo andremo adesso a spiegare. Quindi signora Giorgina, per cortesia, esca! Buonasera! Buonasera, buonasera! La più figa è qui presente, bella gente! Ciao, come stai tesoro? Bene? Tutto bene? Bene, bene, bene. Io un po' meno, mi dica cosa vuole fare oggi? Ma è tutto bene, ti vedo un po' strana. No, è che ho paura! Infatti, ragazzi, lei non sa niente di quello che andiamo a fare, ma quello che andiamo a fare oggi in realtà è una sfida a penitenza, nel senso che va contro di me. C'è qualcosa che tu fai dove tu probabilmente godrai di questa cosa e invece io piangerò le pene dell'inferno. Ma dimmelo che era la giornata più bella del mondo! Che giorno è oggi che me lo segno? Qual è la sfida di oggi? Ve la spiego in breve. Praticamente, io giocherò su Fortnite, ok? Non avevo dubbio di quella. E dovrai decidere tutto quello che dovrò fare. Cosa vuol dire? Io sto fightando? Butta l'SMG, non sparare per un secondo, torna a sparare, non andare di lì, fai questo, butta questo, non curarti, aspetta, cioè puoi fare quello che vuoi. Hai scelto la persona più sbagliata? Puoi scegliere anche tipo shoppami le skin, qualsiasi cosa tu voglia io la devo fare per forza, sono obbligata, ok? Questo è quello che andiamo a fare oggi. Ok, in questo sono fortissima. Comunque ragazzi, prima di iniziare con questo video mi raccomando, spolliciate più non posto a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E vi ricordo che mi trovate, anzi ci trovate sui nostri canelli viola tutti i giorni dalle 16 in poi. I canali qui sotto in descrizione. Ma ora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a soffrire le pene dell'inferno per colpa di Giorgina. Andiamo. Bene ragazzi, siamo qui su Fortnite, direi che possiamo subito iniziare con una... Che cosa? No, no, intanto levi subito singolo e se vuoi fare le cose fatte bene metti arena. Cioè qua si traiarda e si fanno le cose difficili. Arena immediatamente. Ma già da adesso comandi? Arena singolo e... Sì, ma in arena è da stronzi perché tu mi fai buttare le cose mentre fai... Non mi interessa, sono cavoli tuoi e hai scelto tu di fare questo video, raccomando io, ok? Comando io. Non ho parole, va bene. Allora, andiamo in arena ragazzi perché l'hai visto lei. Non è ancora finita la questione in lobby. Togli il pronto perché ora vai nello shop. No, no. Sì, sì, sì. Oggi ho visto bene cosa c'è nello shop. Se vai giù c'è tipo il bundle qua di Cobra Kay, come cazzo si chiama. Vai sotto. Lo sai che io sono un amante dei picconi? C'è un piccone che non ho, che è quello che non hai neanche tu, che si chiama Maledizione del Cobra. Shoppa lo e mandamelo con il regalo, grazie. No, no, no. I baby back, no. E invece come mandi. Padora, che pale, perché ho avuto st'idea? Compra il regalo, cercami. Mi dovrei chiamare Poco. Ecco, ok? Ma veramente? Vai. Spenditi di cash, spenditi tutti, inviami i regalini, inviami tutto. Sì, ah, specificiamo che hai inviato un dono a lei, ragazzi. C'è già scritto qui in Giorgia, se vedete. Sono io, sono io, tranquillamente. Ok. Cioè, mi avevo fatto spiegare, veramente. Grazie che ti ho fatto anche utilizzare il super mega codice tuo. Cioè, codice creatore nello shop croato. Esatto, ragazzi. Supportatemi nello shop. Mi raccomando, taggatemi in una story se comprate qualsiasi tipo di cosa su Fortnite, ok? Cioè, potete pubblicizzare altro, qualche altro, eh, invece pubblicizzate. No, il nostro, ok? Ok, ultima cosa. Basta, basta! Eh, sì, vai nell'armadietto e fammi scegliere una skin. Oh, mio Dio! Una skin... No, 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 no! Io l'ho vista. Io l'ho già vista. Selezionano perché già lo sai. Lo sapevi già? Bananita polare. Congelata. Parti in arena. Posso andare, eh? Cioè, tanto sarei fortissima. Ragazzi, in arena è impossibile questa cosa. Vabbè, andiamo. Ok, ragazzi, siamo in partita. Dove dobbiamo andare, signorina Giorgi? Beh, mi pare che sia scontato. Prima città dove ci sarà un fracco di gente. È quale? Boschetto, boschetto. No. È pieno di gente. Devo andare anche in un palazzo particolare o va bene qualunque? Qualunque. No, puoi scegliere quello che vuoi, però sappi che su quello in cui ti fermi sul tetto dovrai prima farmi un ballettino. Per fare la roba e difaitare. Cioè, se c'è uno che prende un'arma e ti spara, tu gli fai tan tan tan, tan tan, cioè rifai il ballettino. Ragazzi, ma perché ho avuto st'idea veramente di merda? Cioè, quindi ballettino. Oh, cacchio! Allora. Oddio! Non è possibile, non puoi farci... Porca... Dai, no, ma questo qua, porca... Va bene, ragazzi, facciamo che voi non avete visto assolutamente niente, ok? Zero proprio. Zero, perché qua qualcuno deve fare subito la cattiva. Dove devo andare, signorina Giorgia? Allora, io direi di andare in un posto molto tranquillo, ovvero stretto sonno lento. Ah, qua sopra. Sonno lento, quindi, capito, molto rilassante dovrebbe essere. Va bene, ok. Ok. Va bene, andiamo lì. Lanciati e grida Geronimo mentre lo fai. Geronimo! Mi sei piaciuta. Grazie. Era molto bello. Brava. Perché ho avuto lì di fare queste cose cringe, ragazzi? Non potevo stare a casa e non fare... Cioè, fare un video normale come faccio al mio solito. No! Complichiamoci la vita! Perché sì, è bello complicarci la vita. Vedete che perché... Perché è bello! Fai vedere la tua faccia da palloncino? Signorina Giorgia. Voglio dire che l'ultima cosa, qualche picconata, ha i cosi di benzina per fargli esplodere e fare vedere la presenza di una vera siciliana... Sì, ma esplodo io per te non danni! Sì? Eh... Vabbè, ti allontani subito, no? For... Ora sanno della tua presenza. E sicura ci fanno... Va bene, come dici tu. Siamo a mandarci in bocca le piante. Ma non prendo danni, sono tranquilla, sono immune al fuoco io, guarda. Sono una brana di ghiaccio, vedi? Grandissima. Gente qua, gente qua, gente qua. C'è un player. Ragazzi, è il momento della verità. Mi raccomando, un ballettino adesso di... Per darmi un po' la carica, bravissima. Ora che hai ballato, hai fatto la toxic, vai. Però non è la toxic, hai fatto farlo bello. Vabbè, però lui ti ha sentito, quindi pensa che tu stia trollando, quindi... Guardalo come... Guarda, come è spaventato, mo. È spaventatissimo. Prego. Bravissima. Grandi è pullappato! Mamma mia! Pullappato! Cioè, che banana sexy! Signore, ma quanto sei forte! Cioè, dimmi... Procurata un bel UG, ragazzi. Dimmi che non sono una banana sexy. Allora, ti devo dire una cosa. Mi dica. Anzi, due cose che dovrei fare. Cosa numero uno. Appena farai un'altra kill, ok? Dovrai cantare la nostra canzone de seno seno con la lì, ok? E aspetta, prima però di fightare col player, appena lo vedi, gli devi lanciare una splash a lui. Ma c'è, io la devo lanciare a lui! Ecco, ti ho sparato, eh? Da dietro, forse? Sì, lo so, dov'è. È di qua. Una bella splash nei denti, così. Vedete? Lo vedi? Vabbè, ti ho visto splash, fratellino, tutta per te, cazzo. Sai che ti hai lanciato una splash anche lui stesso? Ma è vero, è perché c'è il timing. Comunque l'hai hittato, bravissima. Mi raccomando, ricordati della song sulla maxi, ma io sono confidente che la maxi, perché sei troppo forte. Mamma mia. Ma! Desi nasa nasa cinciuncia! Desi nasa cinciuncia! Va bene? Bravissima, mi sei piaciuta. X Factor ti aspetta. Ok. Oh, cazzo! Ok. Tra la sono di Milano, non per impiazzarmi. Ha detta. Tra la sono di Milano, you can not the place me, because I'm a bananita so sexy. Woo! Sì, è rimasto sopra, però. Ah! Non ho fatto salire, scusa, non ho fatto salire. No, più che altro non ho capito perché non mi ha sparato. La cosa più... La cosa più strana è che non ho capito. Vabbè, con calma. Con calma. Fai tutto veramente nella più tranquillità. Quanto gente? Sappi che c'è sempre tempo per fare. Bravissima. Va bene? C'è alta gente, comunque è pieno di gente. Sì. Sì, però tu sei una bananita. C'è sta! Io! Mamma mia! Iscrutto! Questo è quello che si america. Sarebbe un peccato lasciare il pompa blu e tenere quello verde. Basta. Sarebbe veramente un peccato. Mi edita, cosa succede? Ok. Va bene, non fa niente, va bene. Ok. Fissimi sti shot da parte della signorina Martina. Oh, oh! C'è stato, ci stavo. Dio? Dio? La gente, mamma mia, distrutto. C'è, ma ragazzi, ma sono una banana... Tossica. Tossica? Non faccio mai una tossica. Eh, stavolta... Illuso! Illuso! Ok, basta. Ha passato il succedo. Sì, perché a me non piace tossicare, ragazzi. Penso l'abbiate notato, a me non faccio mai ste robe. Non mi piace proprio per niente. C'è un pelle nel bush, c'è un pelle nel bush. Nel bush? Sì, nel bush. Cancia le clopper, ti prego. Tieni, fra! Oh! Bello! Oh! Bello! Bellissimo, sta Rihanna Grande! Mi canti la canzone di Rihanna Grande, per favore? Mi canti la canzone di Rihanna Grande? Ma non hai visto che l'ho picconata con... Sì, l'ho visto. Eh, la canzone di Rihanna Grande! Sì. Eh, cazzo, non me ne viene in mente nessuno, aiutami! Eh, this is the problem... Non la conosco! This is the power! Eh, non la conosco, purtroppo. Vabbè, ci stava comunque. Ci stava, ci stava. Fra, immagina giocare col Panzer nel 2022. Sì. In arena. Cioè, che problematiche devi avere, esattamente? Ok. Ci sta. Guarda, gioca pure bene. Si nasconde. L'ultimo shot, hai visto? Sì, perché ti è caduta anche la bilge. Craccato anche lui? Mentre cadevi. No, cioè... Quindi, dato che ti ha fatto cadere lui, ora cadi anche tu. Tu ti butti giù anche tu. Cioè. Qua avendo danni, eh? Sì, 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 per forza. Vado, porca, tu hai 40 di vita! Bravissima, come piace a me. Devi farla napoletana anche qui, eh. Devi far vedere... Oh, ma la cazzo! Guarda qui! Sei una testa di... Sei una testa di... Niente, questo qua mi ha rotto il culo. E mi sta pure pushando. Beh, sarebbe un peccato rompirli il giro. Ok, unite le partite a buono tutti. L'aighe lo hai. Bello, sto shot è pulito. Sero la... Oh! Ok, si sta splashando, quindi lui è full farcito. Tu hai saputo di cure. Sei un po' arca, eh? Tu puoi farmi cadere. Fra! Non puoi comandare con... Cioè, qua c'è la banana che comanda. La banana? Mi ha dimmi stare, sai dove c'era la banana? No. Carica, che comando. Bellissimo, bellissimo! Mamma mia, che pulizia con questa banana! C'è! Pusciano, 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 pusciano! Non ci credo, non ci credo. Cavolo. Ballettino! Ok. Ora mi sei piaciuta. Ora, mentre lo fai ti, non mi dispiacerebbe tu cantassi la canzone delle Winx. Ah, ok. Winx! La tua mano nei miei jeans! Più forza mi darà! Esco... Ah, non facevo così, scusami. No, è una versione nuova. Non mi dispiace, però è un po' particolare, ecco. Ok. Mi raccomando, chi ti ha? Fortunite o la PUBG? Fortunite o la PUBG? La risposta qual è? Secondo me, dopo che lo ucciderai, dirà PUBG. Non mi spiegare sempre del palco. Non è neanche male, ragazze, in realtà. No, no, no. Non è stupido. Non è anche un po' più. Non sono messa benissimo. No, l'ho notato. Non tu, Arris. Ecco. Cagasbura, cagasbura. Ti ho un po' complicato la vita, se non ho capito che io mi prendo la piena responsabilità. Attraverso il muro. Attraverso il muro? Attraverso il muro! Va bene, ci sta, va bene. Va bene, va bene. Ok. Oh, beh, con tutti i fastidi che ti ho dato, comunque, direi che sei andata pesante durante un fight, ballare, cantare, fare le cose. Allora, potevo paddare, non l'ho fatto perché non sono una pussi, ok? Questa è la vera spiegazione. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Devo dire che è stata molto, molto cattiva. Inoltre, ragazzi, settimana prossima sarò nel canale di Giorgina e poi, se vi fa piacere, ovviamente, anche lei potrebbe ritornare già giovedì prossimo. Quindi, ovviamente, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e questo è quanto. Detto ciò, ragazzi, vi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campionellina. Noi, come sempre, ci becchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist è tutta e dalla vostra Giorgina è tutta. Ci becchiamo in un prossimo video. Bella a tutti, ragazzi. Grazie a tutti.